In realtà molti milioni di persone sono interessate a sentirla su qualcos'altro perché stanno per arrivare gli esami di maturità e gli esami di terza media. Gli esami di maturità, ormai l'abbiamo capito, gli studenti vanno lì 5 al giorno, una cosa di questo genere, stanno distanziatissimi, non c'è bisogno di una mascherina se stanno a molti metri di distanza. Cosa si può aggiungere? Aggiungiamo, tranquillizziamo le famiglie. È un esame che verrà fatto in totale sicurezza, abbiamo un documento del Comitato Tecnico Scientifico del Ministro della Salute, un protocollo stipulato con le organizzazioni sociali. L'esame sarà orale, quindi semplificato vista la situazione del coronavirus e i nostri studenti porteranno un elaborato sulle materie di indirizzo, faranno anche, io spero, parleranno anche del coronavirus se necessario. Nella parte che riguarda cittadinanza e costituzione mi piacerebbe tanto che i nostri insegnanti chiedessero ai nostri studenti che sono cittadini 18 anni, 19 anni, come hanno vissuto questo periodo. L'esame invece della terza media, me la faccio chiamare così anche se è scuola secondaria di primo grado, sarà un elaborato, discusso online, poi ci sarà lo scrutinio. Però esami fatti in sicurezza e semplificazione dovuta al momento difficile che i nostri studenti hanno vissuto. Terza media tutti promossi, nell'esame, in secondaria. Guardi, gli studenti hanno lavorato tanto, tanto, in una situazione complessa, ad alcuni abbiamo fatto arrivare tablet e pc che non avevano, io penso che la scuola non debba lasciare indietro nessuno, diritto all'istruzione è sancito dalla Costituzione, quindi sono certa che faranno bene. Sentati.